La Superlega vuole giocare, non bisogna fermarsi, gioca chi può come ha fatto Modena giocando la settima di ritorno contro Padova, una bella vittoria, un 3-0 anche se la gara è stata molto molto complicata, importante per Modena Michael Christensen era sbloccare la situazione, no? Sì, è molto importante vincere, anche molto importante giocare per noi giocatori che siamo molto uniti in questo momento, che abbiamo questo IP che è molto fondamentale secondo me per andare avanti, per fare un passo avanti per avere collaborazione con la Lega, che noi ci siamo, noi siamo uniti e noi vogliamo continuare, vogliamo essere rappresentati sul tavolo dove fanno tutti decisioni che anche noi siamo non preoccupati ma vogliamo essere lì perché è anche il nostro futuro che può cambiare Intanto Modena si prende tre punti pesantissimi in un campionato difficile però che deve andare avanti, no? Sì, speriamo di sì, proviamo tutto di andare avanti